Il direttore dei lavori, il responsabile della polizia locale e il conducente del pulmino sono le tre persone rinviate a giudizio dal Tribunale di Padova per la morte del piccolo Martin Fiorra. Era il 20 settembre 2018 quando il bambino, otto anni, fu investito dallo scuolabus mentre tornava da scuola in bicicletta con la mamma a San Martino di Lupari. A nulla erano valsi disperati tentativi di salvargli la vita. Agli imputati a vario titolo vengono contestate irregolarità nel restringimento di corsia presente all'epoca lungo la strada percorsa dal bambino e l'erroneo posizionamento dei cartelli di segnalazione. L'autista del pulmino è accusato invece di non essersi fermato alla vista del bambino in bici. Il processo si aprirà il 21 novembre 2024.